Ho capito, ho capito. Allo facciamo così. Chi ha vò fa... ...s'attacco. Oh, ma non sarà pericoloso. Ma che sciocchezza. Io vorrei tanto. E attaccate e falla finita. Ha la luce. Una grande e immensa luce. No, ha la luce, l'interruttore. Chiura la luce. Anime. 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 A parte i profondi dubbi che nutro sulle sue capacità medianiche, modesti a parte... Sono un appassionato studioso delle scienze occulte e posso dirle che il suo approccio è tanto generico quanto singolare. Lo sa? Anime. Anime. Forza. Anime. Anime. Lasciate che vi avvolga la luce. Una grande e immensa luce. Che è un grande scassamento di cazzo. Ma io lo sapevo. Sono arrivati i spiriti. Papà spiriti. Sono io. Sono io. E i spiriti. Sono lì. Non lo vedevi. A un'altra cosa sta sentito perché se la vogliamo fare bisogna fare silenzio. È chiaro? Attaccato. È anime. È anime. Ma scusi Achille. Lei prima diceva anime. Adesso sta dicendo è anime. Ma qui diemo? Non c'è la miseria. È anime. Anime. Ma non funziona così sia meno generico. Di un'indicazione più... Ma non funziona così sia meno generico. E la direi che come cazzo mi fa fare a me. È chiaro? Anime. Oh. Ma calma. Attaccatevi. Anime. Anime. Adolfuccio caro. Cerbiattino. Cerbiattino. Bevi il tuo cognac. Oh. Cerbiattino. Sì. Sì. Manda giù. Manda giù tutto. Mariana. 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 Bravo. Bravo il mio cerbiattino. Stai bevendo. Che c'è? Stai sudando il cerbiattino mio? Eh? Si sente male il cerbiattino mio? Mariana. Mariana. Immobile. 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 Finalmente. Incapace di profferire, profferire, profferire parola. Finalmente. Mariana. Finalmente. Mariana. Oh, questo si sente male. Cerbiattino. Uno. Mariana. Mariana. Mi diceva sempre. Pazzacchieri. Pazzacchieri. Stasera da buono, Gennarì. Ignor sì, maestro. Hai oleato, Marchingegno? Ignor sì, maestro. Perfetto. E allora possiamo procedere. E ricordati che agli applausi. Tutto ne vai. Perché è un mago son ghia. Ti capite? Procediamo, Gennarì. Signore e signori, il mago a Stolfo è la sua disserzione. Dissezione, Gennarì. Dissezione, non capisce un cazzo, Gennarì. Gennarì. Forza, procediamo. Vai, Gennarì. Vai che la sega. Avvia la sega. Vai, Gennarì. Bravo. Bravo, Gennarì. Gennarì. Aspetta un momento, Gennarì. Aspetta che il calmo, Marchingegno non funziona. Marchingegno si è bloccato. Aspetta. Figure, cazzo. Aspetta, Gennarì, fermati. Fermati. Fermati, Gennarì. Io ho un tipo di notizia, Gennarì. Grazie a lui. Io non cagavo, non cagavo. Gennarì, fermati. Fermati.